Musica Un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, il rotocalco che Tele Truria dedica all'attività del Consiglio regionale Come di consueto in apertura i titoli degli argomenti che andremo ad approfondire all'interno di questa puntata In Toscana arriva lo psicologo di base Piano nazionale aeroporti, il dibattito in aula Presentata in Consiglio regionale, Arezzo, città del Natale Una nuova figura a servizio della salute dei cittadini La proposta di legge che prevede l'istituzione dello psicologo di base ha ricevuto la definitiva approvazione dal Consiglio regionale A presentare la proposta inizialmente sono stati numerosi consiglieri del Partito Democratico Primo firmatario Andrea Vannucci Ai quali si sono poi aggiunte le firme di molti consiglieri regionali di ogni gruppo, anche di opposizione L'atto è stato approvato dall'Aula a larghissima maggioranza, ma non all'unanimità Questa legge sancisce un principio, un principio forte Il benessere psicologico è un diritto e come tale deve essere alla portata di tutti Di conseguenza anche i servizi sul territorio devono tenere conto di questo aspetto Devono organizzarsi affinché le persone riescono a trovare nei servizi delle aziende sanitarie questo tipo di risposta È un servizio che evidentemente nasce anche da quanto vissuto dal nostro mondo negli ultimi anni Le grandi difficoltà e le grandi incertezze legate a fatti con ricadute globali Ma che nasce anche da un'esigenza di promozione della cultura della salute che va al di là di questi fatti contingenti È ovvio che le persone compongono le nostre comunità e l'idea di trovare all'interno delle case di comunità Una rete di professionisti con evidentemente la regia del medico di medicina generale Del pediatra di libera scelta nel mettersi in relazione con gli altri professionisti Mettendo il paziente al centro è un aspetto che questa legge non soltanto esprime ma valorizza Oggi è una giornata storica per la nostra regione, una giornata storica per la Toscana Finalmente passa un messaggio che la salute mentale è fondamentale quanto la salute fisica E' per questo che abbiamo approvato a larghissima maggioranza una norma che definisce lo psicologo di base Forse ci è servita la pandemia per accelerare in questo senso ma è una risposta che noi diamo Oggi tutti i cittadini della Toscana, sia quelli che soffrono di più, sia chi ha più risorse, più possibilità Avranno la possibilità di accedere gratuitamente allo psicologo di base L'iniziativa parte da quando avendo approvato il piano sanitario regionale nel 2019 Abbiamo voluto fare un focus particolare sulla salute mentale È un servizio sociale e sanitario ovviamente inserito nell'ambito dei distretti sanitari Che dà una prima forma di risposta a tante esigenze che nascono nei territori E ci deve essere una collaborazione con il medico di famiglia, ovviamente con la pediatria Con gli infermieri di famiglia che molte volte conoscono le esigenze dei nostri cittadini Una collaborazione che consentirà a molti psicologi di essere convenzionati all'interno dei distretti sanitari Nel contempo serve rilanciare però massima attenzione alla questione che riguarda la salute mentale E per fare questo è necessario che si investa sempre di più su psichiatri, su neurologi, su servizi di salute mentale Che possono poi dare risposte curative qualora le patologie sono oggettivamente in alcuni casi invalidanti Ed entrano nell'ambito della sfera della sanità e della salute mentale Non si è convinto quello del gruppo di Fratelli d'Italia, la proposta di legge che istituisce lo psicologo di base Tra l'altro un voto che viene anche da una mozione unanime di Fratelli d'Italia votata lo scorso luglio del 2021 Che poneva la questione all'ordine del giorno dei servizi che non soltanto la crisi pandemica ha acuito più che rendere necessari Chiaramente siamo cautamente ottimisti nel senso che aspettiamo adesso di lavorare in commissione Con il collega Diego Petrucci alla redazione del regolamento attuativo di questa proposta di legge Che però chiaramente è un primo passo importantissimo nei confronti di tutto ciò che va affrontato a livello sanitario in questa regione Le cifre stanziate per questo primo periodo non sono molto alte Perché se voi considerate che è stato dato 350.000 euro a fronte di un Abruzzo che ne ha messi 400.000 È ovvio che non ci sarà grandi disponibilità Però credo che sia stato fatto un passo importante e che questi medici, psicologi in convenzione piano piano potranno essere messi Diciamo a tempo indeterminato con il lavoro fisso È importante per tanti fattori Perché questo Covid ha mostrato veramente una difficoltà a gestire i periodi di lockdown E conseguentemente ci siamo accorti quanto fosse importante affiancare al medico di base, al pediatra di base Un supporto psicologico, soprattutto per i più giovani che si sono visti rubare gran parte della loro gioventù in questi anni Durante le operazioni di voto dell'atto si è astenuta Elisa Tozzi del gruppo misto Toscana Domani Mentre Silvia Noferi del Movimento 5 Stelle non ha partecipato al voto C'è stato un voto di astenzione perché la valutazione è stata molto semplice Noi è stato valutato dal Consiglio regionale di approvare un provvedimento che sostanzialmente nasce un po' anche sulla spinta emotiva Di quelli che sono un po' di dati allarmanti che hanno riguardato il post pandemia E quindi questa fase difficile, soprattutto tra i giovani, di recupero anche di una dimensione sociale e quant'altro Non credo che legiferare su una spinta emotiva poi porti a valutare nel pieno L'insieme del Servizio Sanitario Toscano Noi abbiamo una costante necessità di risorse, abbiamo una costante necessità di interventi Faccio riferimento banalmente anche solo al fatto delle automediche che oggi non hanno il medico a bordo Alla questione dell'emergenza, alla questione dei pronto soccorsi Ecco, io credo che prima di andare nel particolare, magari su un'onda emotiva, comprensibile anche Si debba invece guardare con molta attenzione non solo alla questione delle risorse e quindi della programmazione Ma anche alle tante questioni irrisolte Purtroppo c'è anche un passaggio per quanto riguarda le donne e la necessità di un maggior supporto alle donne, al genere femminile Che non condividiamo non tanto nei contenuti che sono stati espressi dalla Commissione Pari Opportunità Tutti sappiamo che il genere femminile, le donne, le madri soprattutto, sono state molto più pressate durante la pandemia Per il carico mentale enorme che è gravato su di loro per quanto riguarda il caregiving degli anziani, dei malati Dei bambini che rimanevano a casa per fare la didattica a distanza E spesso sono state loro che hanno dovuto rinunciare al lavoro Ma tutto questo non ha bisogno di uno psicologo per aiutare le donne a sopportare un carico di lavoro Che gli è imposto da una società dove ancora l'uguaglianza, la parità di genere tra uomo e donna Viene sbandierata ma di fatto non attuata Le donne non hanno bisogno di maggiore aiuto psicologico Hanno bisogno di un alleggerimento del carico, hanno bisogno di una maggior condivisione Hanno bisogno di superare il gap salariale che porta le famiglie spesso a chiedere alle donne Di rinunciare al proprio lavoro e attività professionale perché il loro stipendio è inferiore Quindi non aiuterebbe a sostenere le finanze familiari Ecco c'è bisogno di tutto questo Passaggi che sono stati condivisi nel corso degli anni in questa aula Quindi la formulazione così come è stata prevista Non ci convince, faremo una modifica Intenso dibattito in aula per il piano nazionale aeroporti Inserire lo scalo di Pisa tra quelli giudicati strategici all'interno del piano Lo chiede una mozione il cui primo firmatario è Andrea Pieroni del Partito Democratico Mozione che il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità dei presenti Una discussione positiva che ha dato un risultato significativo Una mozione approvata all'unanimità che chiede al Presidente della Regione di presentare entro il 21 novembre una specifica osservazione rispetto alla bozza del nuovo piano nazionale degli aeroporti redatta da ENAC laddove si vada a colmare quella che io credo sia una lacuna anzi una stortura laddove non si preveda che per quanto riguarda il sistema aeroportuale toscano siano entrambi gli scali cioè Firenze e Pisa ad essere considerati strategici così è nel piano nazionale degli aeroporti vigente tra l'altro approvato non molti anni fa nel 2015 per cui dobbiamo evitare che si lasciano cose non dette o zone grigie L'atto di indirizzo era collegato ad un'interrogazione presentata dalla capogruppo del Movimento 5 Stelle Irene Galletti e alla quale ha risposto in aula il Presidente della Regione Eugenio Gianni La costruzione dell'aerostazione nell'aeroporto di Pisa una nuova pista che dà più garanzia di sicurezza e compatibilità ambientale per l'aeroporto di Peretola il problema è stato l'interpretazione che taluni hanno dato che poi è girata sulla stampa sul fatto che l'aeroporto di Pisa non avrebbe avuto riconoscimento adeguato nel piano strategico dei voli approvato dall'Enac a livello nazionale ma in realtà se guardiamo bene quel piano vi è l'indicazione dell'aeroporto di Pisa come quello di Firenze e se a un certo punto nelle aree strategiche si identificano all'aeroporto è stato citato quello di Firenze perché è gestito dalla stessa società Toscana Aeroporti che gestisce Pisa e Firenze quindi è stato un po' considerato quello come aspetto di riferimento comunque nel documento che abbiamo approvato io sono un fermo sostenitore e chiediamo al Ministro Salvini di inserire fra gli aeroporti strategici sia quello di Firenze e Peretola sia quello di Pisa Galilei Noi diciamo che i toscani si sono stancati di sentirsi prendere in giro dal Presidente di una Giunta che a distanza di anni, nonostante governi nonostante sia legittimato da un voto che è stato preso a suo favore e per il quale lui adesso è Presidente non dica chiaramente quale sarà la sorte degli aeroporti di Pisa e di Firenze e non dichiari finalmente quello che è chiaro a tutti che Pisa verrà lentamente declassato e lasciato morire mentre invece sarà prevalente l'aeroporto di Firenze sul quale c'è la volontà pervicace di arrivare alla costruzione di un nuovo aeroporto perché è falso anche parlare di una nuova pista quando sappiamo bene che ci sarà una nuova pista, un nuovo terminal, una nuova viabilità proprio perché sarà cambiata l'inclinazione ecco la mancanza di sincerità da parte del Presidente è la cosa più grave che è emersa in risposta a questa interrogazione Se è vero come ci stanno dicendo ormai da anni che il sistema aeroportuale toscano è un sistema complesso all'interno del quale stanno sia lo scalo di Firenze che lo scalo di Pisa noi chiediamo che la Regione Toscana si faccia portavoce nei confronti di ENAC di inserire anche Pisa tra gli aeroporti strategici italiani dopodiché la cosa fondamentale sulla quale noi vogliamo delle risposte chiare è che Toscana Aeroporti presenti il cronoprogramma rispetto al piano attuativo del masterplan dell'aeroporto di Pisa è inutile presentare un masterplan dove si dice che cosa si farà a Pisa se poi non partono i lavori e se non ci viene detto in maniera chiara quando questi lavori devono partire noi vorremmo, vogliamo che entro la fine dell'anno venga presentato un cronoprogramma puntuale sull'esecuzione dei lavori per l'aeroporto del Galileo Galilei di Pisa e su questo non siamo intenzionati a retrocedere La nostra posizione è che il sistema aeroportuale toscano possa lavorare insieme in maniera congiunta Firenze e Pisa sono di fatto uno scalo unico se concepite nel contesto europeo serve rafforzare Firenze serve fare la nuova pista per rendere più competitivo l'aeroporto del capoluogo integrarlo sempre di più con Pisa e costruire un sistema aeroportuale toscano che sia in grado di competere a livello nazionale ed internazionale Il piano nazionale degli aeroporti ha tolto Pisa come aeroporto strategico della Toscana e ha lasciato esclusivamente Firenze Abbiamo discusso ora una mozione e all'interno della mozione abbiamo portato un emendamento dove chiediamo alla giunta regionale che presenti delle osservazioni al piano nazionale degli aeroporti che riporti Pisa a fianco di Firenze perché noi riteniamo che entrambi gli aeroporti soltanto in sinergia insieme sono strategici per la Toscana e non c'è un aeroporto di serie A o un aeroporto di serie B Io credo che oggi sia stato chiarito in modo inequivocabile come per parlare di sviluppo della Toscana si debba parlare necessariamente di un sistema aeroportuale integrato Io credo che su questo non si debba più tornare anzi credo che tutte le forze politiche debbano unire il loro sforzo nel cercare quanto più di sollecitare da parte di ENAC ma anche da parte del nuovo governo un intervento tempestivo che metta una parola decisiva sia su Peretola perché non possiamo continuare a fare a meno a Firenze un aeroporto che sta dentro di questo nome e quindi di un piano di investimenti serio sia naturalmente su ciò che riguarda Pisa noi dobbiamo parlare di un sistema aeroportuale integrato Cresce l'attesa per la data di sabato 19 novembre quando torneranno ad accendersi le luci di Arezzo, città del Natale La manifestazione che dal 2015 ad oggi ha portato nel capoluogo di provincia 5 milioni di presenze di cui 1.200.000 nel 2021 è stata presentata in Consiglio regionale Sapere che Arezzo in quei giorni sarà illuminata sarà viva sarà ancora più attraente del solito è qualcosa di bello e sono contento oggi di poterlo presentare in Consiglio regionale Un vero e proprio lavoro di squadra tra diverse realtà che consente il successo dell'evento C'è il contributo dell'amministrazione comunale della fondazione di ASCOM è fondamentale fare squadra per far sì che eventi come la città del Natale possano avere lo stesso successo che hanno sempre avuto Nell'ambito delle iniziative nazionali un'iniziativa che ha acquisito un suo livello e una sua storia Una formula, quella scelta per la prossima edizione che mira a ridurre il consumo energetico Spingeremo le attrattive un'ora prima rispetto allo scorso anno faremo meno del videomopping che ha illuminato e raccontava la storia di Arezzo e che si rispecchiava nel Palazzo Comunale Si rinnova la collaborazione con ConfCommercio che porterà in Piazza Grande le 36 Baite Tirolesi la casa di Babbo Natale nel Palazzo di Fraternita e la casa delle Lego in una nuova location All'interno della Galleria di Arte Contemporanea in Piazza San Francesco trova nuova collocazione la casa delle Lego Su tre piani due milioni di mattoncini di Lego Questa era la nostra ultima intervista grazie dunque per la cortesia e attenzione vi ricordo che Cronache e Commenti torna la prossima settimana Grazie a tutti